Questa sera alle ore 21 su TFN nuovo appuntamento con Pedipedi. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedipedi, ciao a tutti ed eccoci in un nuovo appuntamento. Come al solito siamo organizzatissimi in questa nuova edizione, abbiamo alla camera numero 1, ecco ve lo faccio pure vedere, abbiamo Gianluca l'inossidabile. Pronto Gianluca? Caffè l'hai preso? Siamo carichi? Ok, mentre alla cameretta diciamo ecco ci sono io che cercherò di fare qualche ripresa. Oggi siamo in un posto, io penso che sia il posto più bello di Caltanissetta, guardate dove siamo, siamo proprio di fronte all'abbazia di Santo Spirito. Fantastico, è un posto magnifico. Quindi adesso entreremo, abbiamo appuntamento con padre Alessi che ci aspetta. Quindi noi entriamo, vedete, e ci farò vedere delle cose incredibili, delle cose uniche che solo Pedipedi vi farò vedere. Quindi vedete, il nostro scopo è quello di farvi scoprire le storie, i personaggi, i luoghi di Caltanissetta. E molte volte noi abbiamo il vizio di passare davanti, magari velocemente, così con la macchina e diciamo sì, bello, bello, però non sappiamo cosa c'è dentro. Questo ve lo faremo scoprire, ve lo faremo scoprire tra poco. Anzi, se avete delle segnalazioni su cose particolari, potete benissimo anche, ci sono i nostri numeri sicuramente di sovrimpressione, potete contattarci perché tranquillamente... Ah, buongiorno. Ma siamo in ritardo stamattina? No, in ritardo siamo, Gianlu. E ma io dovrei andare in galera fra un po'. Cioè va in galera? No. Sì, sì. Parla adesso, non mi faccia preoccupare, che vuol dire va in galera? Va in galera vado in servizio, quindi... Ah, quindi visitare... Ah, giusto. Visitare, starci, starci, sì. Stare con... Vabbè, quindi visitare gli ammalati, visitare i carcerati, ci sta. Allora... Ci scusiamo...